Salento, terra del sole, del mare e del vento. La terra dei due mari, con i suoi 150 km di costa, raggiungibili dall'entroterra con brevi viaggi in auto, ti aspetta. Nella località di Acquarica, del comune di Presiccia Acquarica, vi è la casa di Beethoven, appartamento a pochi chilometri dalle marine salentine, Maldive del Salento, Santa Maria di Leuca, Gallipoli, Castro, Otranto e tantissime altre località da scoprire. La casa di Beethoven, grazioso salotto, sala pranzo a buon cammino da utilizzare anche per barbecue, cucina, bagno, soggiorno, due spaziose camere da letto, lavanderia e un cortile con aria relax stilizzata. Appartamento dotato di tutti i comfort, aria condizionata, televisore, ventilatori, lavatrice, internet gratis. Nei dintorni sono presenti tutti i servizi di prima necessità, come banche, supermercati, farmacie, tabaccherie, mezzi pubblici con navette per le marine e stazione ferroviaria. Vieni a vivere una vacanza da sogno nel Salento. Cerca la casa di Beethoven su Google Max, Booking o Airbnb. Per informazioni, inviare un messaggio di WhatsApp al numero 320 97 94 748. 320 97 94 748. Grazie. 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 Grazie.